Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto una storia che si ripete. La sinistra italiana tifa per far cadere il governo Meloni, è il loro sogno e questo anche se dovesse comportare, come sempre accade, anche un disastro economico per l'Italia. O meglio, ogni governo che cade crea dei problemi economici, quindi loro sognano che il governo cada con conseguenti problemi economici, ma c'è una variante sul tema. Bisogna anche farlo cadere il governo, pertanto il governo potrebbe cadere per un disastro economico, quindi loro tifano che ci sia un disastro economico che provochi la caduta della Meloni, poiché questo problema economico colpisca ovviamente tutti gli italiani, a loro non importa. L'importante è che cada il governo Meloni. E qui arriviamo al superbonus, mentre la Meloni, tutti gli economisti italiani raccontano che il superbonus è stata un'illusione ottica, la sinistra spera che invece il superbonus resti così com'è, perché così com'è ci porta dritti al fallimento. Quindi loro dicono che rimanga il superbonus, la Meloni non può cambiare idea perché in campagna elettorale ha detto una cosa, quindi deve mantenere, dobbiamo andare avanti perché il superbonus non fa nulla, non ha nessun aspetto negativo, ma loro lo sanno perfettamente, anche tramite i loro economisti, lo sanno perfettamente, che con il superbonus si è passato, si è passata la linea e così sperano che il governo Meloni tenga il superbonus in modo che arrivi un problema molto forte per l'Italia economico che potrebbe portarci anche al fallimento, con conseguenza poi della caduta del governo Meloni. Quindi qualunque mezzo per loro è idoneo per far cadere la Meloni, quindi l'importante è la caduta del governo a qualsiasi costo, quindi pronti a far fallire l'Italia purché fallisca lei. Ma questo è un gioco, gioco tra virgolette, è un modus operandi vecchio, vecchio come il cucco a sinistra, a qualsiasi costo devono cadere. Poi, disastro economico, ma chi se ne frega, questo è il punto perché non hanno altre metodologie, possibilità per far cadere il governo Meloni, non hanno veramente un qualcosa da contrapporre perché le migliori idee, tra virgolette, della sinistra sono finite a destra. La destra governa con idee di destra e con una parte di idee di sinistra. Che cosa rimane al PD e alla sinistra? Nulla. Rimangono quelle leggi tipo il DDL ZAN, lo IUSSOLI che ripetono come dei pappagalli da dieci anni a questa parte. Pensate che hanno governato per dieci anni e non sono riusciti a farli. Oggi cercano di contrastare il governo Meloni riproponendo quelle leggi che non sono mai interessate a nessuno, a quasi nessuno interessano. E pertanto rimangono solo nei cassetti polverosi della sinistra queste proposte di legge, che sono dei contorni, manca il piatto forte, manca il piatto principale. E allora la speranza per vincere le elezioni è quasi zero. Quello che possono loro sperare è che succeda qualcosa al governo in carica, quindi che ci sia un disastro economico che porti loro a governare perché gli italiani improvvisamente si rendono conto che quelli che hanno votato hanno provocato questo disastro, così per la legge dell'alternanza vanno loro al governo senza che realmente gli italiani li votino per qualcosa di concreto, ma solo perché gli altri hanno fatto un disastro. E qui ormai da dieci anni a questa parte e più c'è questa nuova linea di tendenza, speriamo che gli vada male tutto. Naturalmente quell'andar male a un governo in carica significa portare dei problemi seri all'Italia, economici a tutti gli italiani. Bonaccini dice di voler cambiare questa tendenza. Meloni non è nostalgica, è una persona capace, io la penso diversamente, io devo dimostrare agli italiani che le mie idee sono migliori, che io ho qualcosa di diverso da dire, delle soluzioni diverse ai problemi, che è la cosa corretta. Bisogna vedere se poi lui riuscirà su questa strada, sulla strada del... ci confrontiamo col centro-destra sulle idee, sulle soluzioni, non nello sperare che gli vada tutto male perché loro sono cattivi. Perché oggi alla sinistra che cosa rimane? Speriamo che a loro vada tutto male perché loro sono cattivi e noi siamo buoni. Capite che questa narrazione è abbastanza infantile, una narrazione infantile da chi si crede rispetto agli altri, acculturato, che ha studiato, intelligente, buono. Come mai chi si crede più intelligente degli altri, sa solo confrontarsi con il concetto loro sono cattivi e noi siamo buoni, loro sono i nostalgici, noi siamo invece quelli che amano la democrazia e gli altri no. Infatti loro si chiamano Dem, democratici. Già, come vi dicevo in altri video, già un gruppo di persone che si definisce democratiche, questo vuol far capire che immaginate cosa pensano degli altri. Noi siamo democratici e voi insomma. Ecco, è un po' come Alberto Sordi. Io sono io e voi non siete... Ecco, questa è una caratteristica fondamentale della sinistra fino ad oggi. Speriamo che al governo gli vada male, speriamo che fallisca l'Italia, così fallisce anche Meloni. È l'unico modo che abbiamo per tirar giù il governo, non con le idee, ma sperare che gli altri facciano degli errori. ecco, grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.